Primo colpo di mercato in casa Passalacqua Spedizioni. Dopo nemmeno una settimana dalla sconfitta nella semifinale play-off, la società del presidente Giastefano Passalacqua annuncia il primo acquisto della prossima stagione. A vestire la casacca bianco-verde sarà la nazionale spagnola Laura Nichols, alla pivot di 190 cm classe 89. Nella stagione che si è appena conclusa, Nichols ha vinto il campionato polacco con il Wisla Krakow, dove ha messo a segno una media di 8,7 punti in 24 minuti di media, raccogliendo 7,1 rimbalzi di media, 2 assist e una stoppata, e 9,5 punti, 7,1 rimbalzi, quasi 3 assist e una stoppata in Eurolega, in 33 minuti giocati di media partita. Medaglia d'oro agli europei disputati in Francia nel 2013, medaglia d'argento ai mondiali 2014 disputati in Turchia, sconfitta solo dagli Stati Uniti in finale, dove ha collezionato 10 punti, 11 rimbalzi e 2 assist contro le star USA e medaglia di bronzo durante l'ultimo Eurobasket 2015 disputatosi in Romania-Ungheria. Giocatrice forte fisicamente che difende bene l'area, considerata da tutti una grande combattente sul parquet, capace di giocare sia in post sia tirare dalla media, e talvolta da fuori dall'arco dei tre punti. Nel 2014-2015 ha militato nel campionato turco con la squadra dell'Abdullah Gull, dopo aver conquistato anche il campionato spagnolo nel 2013-14 con la casacca del Rivas Ecopolis, battendo con un secco 2-0 in finale il Perfumerias Avenida. Viene spesso descritta dalle addette a lavori come una guerriera, una grande competente che lotta sempre su ogni pallone. Sarà la mia prima stagione in Italia, ha detto la neogiocatrice della Passalacqua. So che il campionato è molto competitivo e difficile, ed essendo una giocatrice di basket cerco nuove sfide. Ragusa, ha detto la Nichols, è una delle migliori società in Italia e sarà un piacere giocarvi per la professionalità e per l'atmosfera che si respira.